Benvenuti su Lady Gossip, il luogo dove i segreti delle celebrità vengono svelati. Antonella Fiordelisi vs. Edoardo Donnamaria, la coppia nata all'interno della casa del grande fratello Vip, sembra non riuscire a trovare la pace nemmeno dopo la separazione. I social media si infiammano mentre Antonella e Edoardo si scambiano frecciate e accuse in una guerra verbale che coinvolge anche le parole di Sonia Bruganelli. Siete pronti a scoprire cosa è successo? Prima iscrivetevi al canale Lady Gossip e attivare la campanella per essere sempre aggiornati. L'attuale scenario sembra essere lontano dall'armonia, e anche se la rottura tra Antonella e Edoardo è avvenuta mesi fa, le tensioni non accennano a placarsi. Le frecciate velenose volano, con entrambi i protagonisti che non esitano a esprimere apertamente le loro opinioni. Il recente post di Sonia Bruganelli ha riacceso la polemica, offrendo una piattaforma per esprimere i loro sentimenti contrapposti. Mentre Antonella Fiordelisi ha sofferto molto per la fine della relazione, accusando Edoardo Donnamaria di scomparire improvvisamente dalla sua vita, il giovane ex Geffino ha argomentato che la sua decisione di evitare di mostrarsi pubblicamente con lei era guidata dal desiderio di evitare una relazione tossica sui social media. Ma la verità è spesso più complessa di quanto sembri, con versioni divergenti su come si aggiunta al termine la loro relazione, Antonella e Edoardo continuano a far parlare di sé. La Fiordelisi ha persino smesso di seguire Edoardo e la sua famiglia sui social, manifestando un malessere nascosto dietro la sua apparente felicità. Nel frattempo, Edoardo sembra godersi la sua vita da single, lasciando intendere nuove relazioni con i suoi like sui profili Instagram. Le loro strade si sono separate, ma il loro passato continua a creare onde nel mondo dei gossip. Mentre il mistero sulla fine della loro relazione si approfondisce, il confronto tra Antonella e Edoardo continua a far parlare di sé. Cosa riserva il futuro per queste due figure famose? Restate con noi per tutte le ultime novità su questa travagliata vicenda.